Di questa edizione di Sanremo è Controvento di Giuseppe Anastasi, dirige l'orchestra il maestro Beppe Vessicchio che per l'occasione senza barba sembra il maestro Federico Capranica. Signori, canta Arisa. Io non credo nei miracoli, meglio che ti liberi, meglio che ti guardi dentro Questa vita lascia i dividi, questa mette i brividi Certe volte più un combattimento c'è, quel vuoto che non sai Che poi non dici mai, che brucia nelle vene Come se il mondo è contro te e tu non sai perché Lo so, me lo ricordo bene, io sono qui Per ascoltare un sogno non parlerò Se non ne avrai bisogno ma ci sarò Perché così mi sento accanto a te Viaggiando contro vento risolvero Magari poco o niente ma ci sarò E questo è l'importante acqua sarò Che spegnerà un momento accanto a te Viaggiando contro vento Tanto il tempo solo lui lo sa Quando e come finirà la tua sofferenza Il tuo lamento c'è, quel vuoto che non sai Che poi non dici mai, che brucia nelle vene Come se il mondo è contro te e tu non sai perché Lo so, me lo ricordo bene, io sono qui Per ascoltare un sogno non parlerò Se non ne avrai bisogno ma ci sarò Perché così mi sento accanto a te Viaggiando contro vento Viaggiando contro vento risolvero Viaggiando contro vento Viaggiando contro vento Viaggiando contro vento Viaggiando contro vento Acqua sarò Che spegnerà un momento accanto a te Viaggiando contro vento Grazie Grazie Signori, Arisa Buonasera Arisa, ciao